Bella a tutti ragazzoni e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo942 e siamo all'episodio numero 33 se non sbaglio, signori, la nostra avventura continua. Allora, cosa facciamo in questo bellissimo episodio di oggi? Signor, intanto hanno dato una cosa bellissima, che qui i blocchi di rame se stanno troppo a contatto con l'acqua diventano spettacolari. Guardate, prima sono diventati così, ossidati, e poi si ossidano ancora di più. Bellissimo, potremmo farci una mega statua qua sotto che si erge tutta qua in aria con questi blocchi così... Beh, tipo la statua della libertà, mi piace, mi piace, potrebbe essere un'idea, potrebbe essere un'idea. Abbiamo tanti progetti, ma non ne stiamo portando pochissimi a casa comunque. Signori, dettagli, intanto vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suoi genti e per il supporto. Signori, vi ricordo di iscrivervi al canale, che dobbiamo raggiungere i 2000 iscritti il prima possibile. Entro l'anno, entro l'anno, spero. Cosa facciamo oggi, signori? Oggi dobbiamo andare in esplorazione. Uno, perché dobbiamo trovare un villaggio. Non è possibile che ancora non abbiamo trovato nemmeno un villaggio in questa serie dopo 33 episodi. Due, dobbiamo anche fare un po' di risorse, perché ferro siamo proprio a corto. Infatti abbiamo dei picconi di pietra e quindi dovremmo un attimino organizzarci. Però, signori, noi abbiamo un sacco, per passare un termine tecnico più pulito, un sacco di diamanti. Abbiamo un piccone di diamante e abbiamo un piccone con fortuna 3, signori, che ci porteremo anche dietro. Quindi, prima di partire con qualsiasi cosa, signori, facciamo un bellissimo, come si chiamano, appendino. In inglese è armostend e in italiano, come ragazzo allora si chiamano, manichino. Supporto per armatura. Ok, facciamo un supporto per armatura, signori. Lo piazziamo qui, carino, carino, carino e coccoloso. E ci andiamo a mettere la nostra armatura, signori. La nostra armatura che ci ha salvato in tante battaglie, in tanti momenti particolari. Ci ha salvato la vita. La andiamo a piazzare lì, che tanto adesso non ci serve più a nulla questa armatura. Quindi vai così, piazzala lì, piazzala lì, piazzala lì, però ce la teniamo per ricordo, signori. Ci piazzala lì e piazzala lì, perfetta. Dopodiché, dopo di che, signori, ci siamo pronti al momento più importante di tutta la serie, signori. Stiamo facendo la nostra prima armatura in diamante. Prima e spero anche ultima, perché spero di non morire in questa avventura e di non perdere tutto quanto. Però stiamo a fare tutto, perfetto. Ok, il piccone ce l'abbiamo. E mi sta bene. Andiamo a fare una spada, così siamo ancora più tranquilli e forti, signori. Perfetto. Indossiamo semplicemente tutto quanto quello che possiamo indossare, così siamo in sicurezza. Ma che siamo belli, signori. Ma quanto siamo belli. Ma quanto siamo belli nella nostra casetta con la nostra prima armatura in diamante, signori. Ma quanto siamo belli. Mi piace, mi piace, mi piace. Poi, posiamo, allora, questa spada io direi che la possiamo anche cuocere, così ricoveriamo una pepita. Questi picconi direi che li possono fare la fine che, la fine è quella che conosciamo tutti. Sì, la fine è quella che ci mettiamo qui sul bordo. Ciao piccone 1. Sono di pietra, signori, non ho che farci. Quindi, mi sto accorgendo adesso che ci mancano le frecce. Dove cazzola le ho buttate le frecce? Questo è un problema. Senza frecce il nostro arco non funziona. E se il nostro arco non funziona, non va assolutamente bene tutta la situazione. Dove le ho messe le frecce? Ho perso le frecce, signori, ho perso le frecce. Le posso aver solamente messe in questa cassetta qua, qua sotto. Che ho levato tutta quanta la pietra che avevo in giro. Non ce l'ho neanche qua. Dove sono le mie frecce? Chi si è fregato le mie frecce? Mi sono sparite le frecce, signori. Gravissima questa cosa. Voi pensate che andavo in esplorazione e non avevo le frecce? Ok, mi sa che devo fare un salto alla farmia di schede, signori. Perché senza nemmeno una freccia noi non possiamo assolutamente fare nulla. Sono qua le mie frecce? No, bene. Abbiamo perso 10 minuti di video e non so dove sono le mie frecce. Le ho messe? No, qua non ci sono. Le ho messe a cuocere. No, sono una pepita. Va bene, devo fare un salto alla farmia di schede, però prima di tutto ci organizziamo tutto quanto il lavoro. Allora io mi porterei l'ossidiana anche se non dobbiamo recuperare un bel po' a giro perché così ci facciamo un bel portale del nether dall'altra parte del mondo e vediamo se siamo più fortunati. Un accendino perché se no la nostra non funziona, il nostro portale non funziona. direi che possiamo anche farci una crafting table che sto notando in questo momento che non abbiamo nel nostro inventario. Questa è una cosa gravissima. Questa è una cosa gravissima. Questo dobbiamo riempirlo d'acqua. Ok, i diamanti direi di posarli perché sicuramente moriremo, quindi evitiamo. Ma ce l'ho della selce, così per caso evito di andare fino alla sotto, dimmi che ce l'ho della selce. Non ce l'ho manco la selce, mannaggia. Il lettino ce lo portiamo, che è sempre buono. La carne ce l'abbiamo, abbiamo poco ferro. Il carbone ce l'abbiamo. Va bene signori, faccio un rapido taglio. Vado un attimo alla farmia di schede, recupero giusto giusto due frecce perché se no il nostro arco non funziona. O sono io che sto scemo? Funziona? No, non abbiamo frecce signori, devo fare un piccolo taglio. Ok signori, taglio fatto. Stiamo pronti, dovremmo avere tutto. Più semplicemente recuperare l'acqua e un po' di ossidiana a giro per il mondo, ma la recupereremo perché così vediamo di farci un bel portale e vediamo anche se da qualche altra parte del Nether siamo più fortunati rispetto a quello attuale. Allora, io direi, se non sbaglio, in quella zona di là che già abbiamo esplorato l'altra volta, c'era una zona di collinare che poi ci siamo persi dentro una grotta a cercare a fare esplorazione, a fare mining, a fare scavo e ci siamo persi completamente. Quindi io direi, andiamo in quella direzione di là, anche perché di là c'è mare, di qua c'è mare, di là sì c'è la foresta, se non ricordo male sì c'è la foresta, quindi non c'è più niente di interessante. Se non ricordo male, in questa direzione di qua noi dovremmo riuscire a trovare qualcosa. Serve bello anche fare un fungo di questo così grosso enorme a casa nostra, però fondamentalmente non ci serve anche perché a me i funghi non piacciono più di tanto. Quindi, signori, sarà un video così esplorativo. Dovremmo portare anche i maialozzi a casa nostra. Ora che abbiamo le carote, dobbiamo vedere di portare i maiali, dobbiamo ancora portare anche i polli, abbiamo fatto la zona dove mettere i polli, ma non abbiamo ancora trovato i polli da portare. Ma se invece ne facciamo una cosa, signori, proprio così, in maniera cattiva e arrogante, in maniera cattiva e arrogante, intanto al mio tizio è già venuta fame, quindi mangiate una bistecca, bravo, così, perfetto. Recuperiamo l'acqua, signori. Facciamo una bella barchetta e affrontiamo il mare, signori, affrontiamo il nostro destino, affrontiamo qualcosa che non abbiamo ancora fatto, siamo il Jack Sparrow della serie, signori, siamo il Jack Sparrow della nostra avventura. Metti la barca a mare, dai così, rompi questa gaffetta in tempo che ci serve, che ci abbiamo portato dietro e partiamo, signori, partiamo verso là, in quella direzione, non lo so, sono ispirato ad andare verso di là, come Jack Sparrow, nuove avventure, nuovi orizzonti. Troveremo qualcosa che ci interessa? Non si sa, però non abbiamo mai affrontato il mare aperto verso il nulla cosmico e potrebbe non essere una buona idea, signori, potrebbe non essere una buona idea. Ok, si sta generando il mondo così a caso e la cosa mi piace, nel frattempo guardiamo anche sott'acqua, può essere magari, becchiamo qualcosa di interessante, a parte di qui, potremmo portarci anche una canna da pesca, così praticamente potremmo anche pescare. Andiamo di là? No, continuiamo ad andare dritto, signori. Il mio istinto mi dice di andare dritto, il mio istinto mi dice di andare dritto, ma qua c'è ancora la foresta di prima, ci sono ancora gli alberi alti alti alti, che non ci portano a niente, pecore come se non ci fossero domani, qualche lag improvviso, però va bene, si sta generando un po' con il mondo così, alberi di betulla, il betulla è già un buon segnale, signori, potrebbe essere una pianura, attenzione, si sta creando il mondo, c'è una montagna ed è anche notte, ottimo, quindi direi, prima che succeda qualsiasi catacrisma, qualsiasi cosa irrecuperabile, torniamo qui, mettiamo il nostro bellissimo lettuccio che ci siamo portati, signori, sarà un video molto particolare, sì, abbiamo un nuovo punto di spawner e questa non mi fa tantissimo piacere, però ce lo faremo andare bene, signori, ce lo faremo andare bene, continuiamo ad andare in questa direzione, ho deciso che questa è la nostra direzione di viaggio e questa sarà la nostra direzione di viaggio, in che direzione stiamo andando? Non ho più po' l'idea, ma qualcosa affronteremo, signori, qualcosa la dobbiamo affrontare, sarebbe bello anche trovare delle caverne nelle quali poter recuperare un po' di ferro e un po' di carbone, perché comunque, che voce mi è uscita, scusate, mi sto un attimo intoppando con la voce, perché comunque dovremmo fare anche un attimino una ricarica di ferro e di carbone, in questo momento voi state dicendo, ma scusami, ti si è fatto la barca, perché stai andando a nuoto? Una giusta osservazione, signori, una giusta osservazione è che però non ho cosa rispondervi, cazzaroma, è tutto così in questa parte del mondo, con sti cazzarola di alberi a fungo, ma non mi piacciono i funghi, mi date una collina normale? Mi date una cazzarola di collina normale dove ci può essere un villaggio? Io vedo le serie degli altri e trovano villaggi come se non ci fossero domani, io non sto trovando niente, niente di niente di niente di niente, ma neanche se praticamente mi concentro e mi spremo tutto trovo qualcosa, un villaggio, me lo date un villaggio, qui comunque saremmo anche relativamente vicini, non è che saremmo poi tanto lontani, siamo comunque relativamente vicini, ma tutta questa bedulla a me non mi serve, mi serve una collinetta, una zona di sabbia, ecco le api sono carine, le api sono carine ma non ho che farci, le api sono carine ma non ho che farci, signori la nostra esplorazione sta continuando ma non stiamo trovando assolutamente nulla, ho fatto un taglio ma stiamo camminando, 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 camminando e addirittura del deserto, no le tartarughe no, porca miseria, le tartarughe no, perché non ho un piccone così, non ho un piccone così, le facevo accoppiare e mi portavo le uova a casa, mannaggia, intanto non c'è assolutamente una scippa di niente, niente completamente signori, ma noi non demordiamo, non demordiamo signori, parchetta a mare e partiamo verso 9 orizzonti, in che direzione sta andando, non ne ho più parli di idea, ho perso completamente qualsiasi tipo di riferimento, l'ho perso, certo un bel villaggio sulla sabbia, le zucche, le zucche ce le abbiamo, sì, le zucche ce le abbiamo, un bel villaggetto così a casa, tac, di botto, niente, questa è una pianura, dai dammi un villaggio, mannaggia a te, dammi un villaggio, mannaggia a te, ma un relitto, una nave, una barca, un qualcosa di affondato, un grattacielo, niente, non proprio, niente, non mi vuole dare niente, nessuna risorsa nuova da poter sfruttare, però attenzione, attenzione, questa è una zona, no, la pecora nera signori, la pecora nera è tanta roba, la pecora nera è tanta roba, ma non ci serve un cavolo, signori abbiamo trovato i girasoli, ci facciamo qualcosa con i girasoli, no, però me lo porto a casa, dici ma che te ne fai, ma l'ho distrutto, no, l'ho preso, ok, mi faccio un bel vasetto e ci metto due girasoli, due girasoli che mi ricorderanno di questa avventura inutile, no, abbiamo trovato pure i cavalli, signori, ho pescato pure i cavalli, ma di cosa stiamo parlando, ciao cavallino, ti porterei molto volentieri a casa con me, ma non ho né una sella né dove metterti, però ti porterei molto volentieri con me, quello è più bello però, sì, decisamente sì, signori, continuiamo questa camminata, questa gita turistica, questo running, questa camminata verso nuovi orizzonti e nuove esplorazioni, non c'è niente, non c'è niente, è bello che io voglio fare pure una sorta di ferrovia per poi portarmi villager a casa, sì, voglio essere educato, voglio essere educato, non voglio dire parole strane, non voglio dire parole strane, quindi non diremo quello che sto pensando, ma un bel villaggetto qui nel deserto, niente, di tutto quello che volevo trovare diciamo che quello, quello è proprio ciò che non volevo trovare, signori, decisamente no, decisamente no, abbiamo trovato una postazione pillager, una postazione pillager, ora è normale, io volevo un villaggio, non volevo la postazione pillager, allora, come ci organizziamo, come ci organizziamo, Polletto, tu cosa dici? ma porca mia, la postazione pillager, ma io dico, ma di tutto quello che potevo trovare, la postazione pillager, giusto la postazione pillager, potremmo andare a prendere le casse sopra e rischiare la vita? abbiamo un'armatura in diamante, non dovremmo avere paura di niente, però, 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 se ammazzo quello con lo standard c'è un problema di malattia, che non è malattia ma è infezione, quindi prendiamoci un secchiello di latte intanto per non sapere né leggere né scrivere, signori, facciamo un attimino la circonnavigazione di questa zona di qua, magari da questa parte becchiamo il villaggio, può essere che vicino la postazione pillager, ci sta un villaggio, può essere di sì, può essere di no, mi sta proprio di no, proprio in maniera diretta anche perché un villaggio vicino alla postazione pillager, diciamo che o i villageri sono stati stupiti a crearlo lì, o i villageri sono stati molto intelligenti a crearlo qui vicino, va bene, allora, io direi, io direi, sta calando la notte, signori, io direi, torniamo sui nostri passi, riavviciniamoci alla torre pillager, pillager, piazziamo il nostro lettuccio, dormiamo e domani, signori, andiamo alla conquista della torre pillager, senza né paura, senza nessun tentennamento, signori, la torre pillager sarà nostra, forse c'è il corno nella cassa quella sopra, non sarà granché come situazione, però se riusciamo a trovare il corno, ci mettiamo a suonare il corno, quantomeno abbiamo una soddisfazione, non cazzarò della torre pillager, eccola là, lì è morto un squid, ci interessa poco, noi dobbiamo semplicemente arrivare qui, bello, qui sono, ci sono anche i lupetti, è stato che mi potete portare tante belle ossa, ok, signori, io direi, piazziamo il nostro lettuccio qui, cambiamo l'inquadratura come il nostro solito fare, signori, e con la torre pillager alle nostre spalle, io vi ringrazio per guardare questo video, vi ringrazio per il like con la mucca a fianco a noi, vi ringrazio per il like, per i commenti, per i seguenti e per il supporto, e noi ci vediamo sempre qui domani per un prossimo appuntamento, bella raga, ciao!